da strill.it 30 novembre 2018 gratteri l'europa è un grande supermercato in cui le mafie reinvestono le mafie votano e fanno votare e cercano di non stare mai all'opposizione se sbagliano il cavallo vincente poi si spostano quindi il rischio di infiltrazione c'è sempre non so dire se lo stiano facendo con questo attuale assetto così il procuratore della repubblica di catanzaro nicola gratteri ospite di lilly gruber a otto e mezzo sulla sette affronta diversi argomenti e bacchetta l'europa sul dedicato tema del controllo del territorio e del riciclaggio del denaro sporco gratteri inoltre inoltre nel rispondere ad una domanda sul modello riace ha detto non posso dire nulla perché c'è un'indagine in corso bisogna capire quanto contenuto c'è in quel capo di imputazione sul tema dell'immigrazione il procuratore gratteri sottolinea non ho sentito salvini parlare di mafie ma solo di immigrazione un problema che non si combatte creando un tappo sulle coste libiche bisogna andare in centro africa e capire chi organizza l'attraversamento del deserto puoi andare lì a costruire infrastrutture e attività per rendere vivibile il centro africa e poi occuparsi dei clandestini in italia ma senza accordi bilaterali come si possono rimpatriare per il procuratore antimafia di catanzaro la legislazione antimafia italiana è all'avanguardia ma in europa guardano ad altro l'ultima volta che in europa si è discusso si è discusso di uniformare il sistema giudiziario sottolinea si è ipotizzato di adeguarsi al sistema malettone ma vi rendete conto si perderebbero cento anni di leggi contro la mafia le norme migliori sono sempre scaturite dai momenti più dolorosi della lotta contro la mafia all'indomani delle stragi se si volessero davvero omologare i sistemi giudiziari il punto di partenza sul quale costruire il nuovo impianto normativo non potrebbe essere che l'antimafia italiana e che in europa non abbiano ben capito cosa sia la mafia lo si capisce dal caso provenzano e dalla recente condanna dell'italia da parte della corte europea dei diritti dell'uomo di strasburgo per il carcere duro provenzano negli ultimi anni non è stato in carcere ma è stato in una clinica dove è stato curato meglio di qualunque altro cittadino ciò che l'europa non capisce è che un capo mafia come provenzano che non si è mai pentito comanda anche solo con gli occhi e per questo che gli si deve impedire di avere contatti con l'esterno resterà pericoloso fino alla morte così le parole di gratteri da stril.it l'arciere luigi palamara 30 ottobre 2018